A Giulianova, dopo Nausicaa Cameli, anche Dino Macera, la guida della lista Bella Giulianova, composta da articolo 1, sinistra italiana, comunisti italiani in rifondazione, ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare a correre come candidato sindaco alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio. Alle 12 di oggi è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste e dei candidati. Sono 5 i candidati ufficiali che correranno alle elezioni del nuovo sindaco del Comune Costiero. Nell'area di centrodestra c'è Pietro Tribuiani, appoggiato dai partiti Lega, Forza Italia, Fratelli Italia e Idea, mentre Ivan Costantini, ex esponente di Forza Italia, è sostenuto da 6 liste tra movimenti civici e le aici, che sono verso Giulianova Turismo, Giulianova in movimento, Ivan Costantini sindaco, azione politica all'altra Giulianova e al centro della città. Ad appoggiare Costantini ci sono anche ex esponenti del centro-sinistra o che comunque hanno fatto parte dell'esecutivo dell'allora sindaco Francesco Mastromauro. Mentre per il centro-sinistra, dopo la prova di accordo saltato, il PD ha scelto di puntare su Gabriele Filipponi, mentre Franco Arboretti, leader storico del cittadino governante, è appoggiato da altre due liste con il suo nome, Giulianova Viva con Franco Arboretti e per Giulianova Franco Arboretti sindaco. Infine il Movimento 5 Stelle ha deciso di scendere in campo con la sua lista a sostegno di Mauro Di Crescenzo, già candidato alle scorse regionali. Sono in totale 254 i candidati consiglieri, per 16 posti in consiglio di cui 10 andranno la maggioranza e 6 la minoranza. Va inoltre ricordato che il Comune di Giulianova ha più di 15.000 abitanti, quindi con ogni probabilità, visto il numero di candidati, servirà il ballottaggio per decretare il nuovo sindaco costiero.